Aggiornamento con le ultimissime notizie di Casa Inter tra campo e calciomercato, uno dei format più richiesti e più seguiti qui su Passione Inter dove andiamo a condensare in pochi minuti quelle che sono le notizie più importanti del momento e poi soprattutto oggi ci voglio aggiungere un po' di riflessioni da fare insieme. Oggi parliamo del mercato innanzitutto dove dopo la cessione ufficiale di Satriano aspettiamo le ultime operazioni in uscita come Fontana Rosa alla Reggiana, Franco Carboni al Venezia dopo la rescissione abbastanza clamorosa col River Plate e poi da piazzare in uscita mancheranno Radu Salcedo e forse Joaquin Correa che a spanne è di fatto l'unico giocatore che fa sporare i conti del mercato dell'Inter che altrimenti tra rinnovi di contratto e nuovi acquisti e le cessioni che sono state fatte in queste settimane in termini di bilancio è più o meno in pari tra entrate ed uscita appunto in termini di costo a bilancio. Un equilibrio quindi che l'Inter sta cercando di tenere un po' con il bilancino misurando tutto al centesimo e non è un caso secondo me che proprio in seguito alla cessione di Satriano si è sbloccata la trattativa per Palacios che dovrebbe essere quindi l'ultimo colpo del mercato estivo dell'Inter. Ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi quindi ben ritrovati e ben ritrovati amiche e amici passioni interisti vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti così cresciamo sempre di più e in descrizione trovate ancora il link per partecipare al Fanta Passione Inter mi raccomando vi aspetto nella nostra Lega gratis con tante sorprese per i migliori Fanta allenatori. Parliamo delle notizie partiamo allora da Satriano perché il primo pezzo di questo domino che ci aspetta in queste ore sostanzialmente Satriano c'è anche un piccolo mistero da risolvere perché il Lance annuncia sul proprio sito ufficiale di averlo ricevuto dall'Inter mettiamola così in prestito con diritto di riscatto. Mentre sul comunicato ufficiale dell'Inter c'è scritto chiaramente prestito con obbligo di riscatto e anche le notizie che sono emerse andavano proprio in direzione di un obbligo di riscatto. Quindi le possibilità al momento sono due correggetemi se sbaglio o uno dei due club ha sbagliato il proprio comunicato nell'annunciare le formule oppure opzione numero due è un diritto di riscatto magari ma con delle condizioni diciamo molto agevoli quindi di fatto un obbligo di riscatto mascherato. Non vedo altre strade al momento. Possiamo dire comunque che l'Inter ragionevolmente si è di fatto assicurata dalla cessione di Satriano 6 milioni di euro totali più un milione di bonus eventuale ed è una cifra che nei fatti viene dirottata nell'immediato su Palacios sostanzialmente. Euro più euro meno anche se sembra che Palacios alla fine potrebbe costare un pochino di più rispetto a quanto era previsto perché il giocatore l'argentino che arriva dall'independente Riva Davia dove c'era una situazione contattuale particolare con il Tageres e a Milano per le visite mediche innanzitutto anche se sembra che la fumata bianca definitiva tra le società debba essere ancora conclusa negli ultimi dettagli. Le ultime cifre comunque di cui si sta parlando sono di 6,5 milioni di euro subito per il cartellino più 4,5 milioni di bonus tra alcuni più semplici e altri più difficili da raggiungere ma c'è chi sostiene anche che alla fine la società argentina potrebbe tenersi addirittura un 10% sulla futura rivendita. Questo perché oggi le squadre tedesche che si erano mosse avrebbero potuto offrire subito anche 10 milioni di euro quindi più di quanto l'Inter sta spendendo in questo momento ma la volontà forte del giocatore di venire all'Inter ha fatto saltare le piste tedesche per favorire l'Inter e quindi la società argentina accetta magari di incassare qualcosa meno nell'immediato ma vuole ottenere qualcosa in più nel prossimo futuro. Vediamo io per ora comunque sul 10% di rivendita non ho conferme sarebbe un affare comunque piuttosto oneroso soprattutto a queste condizioni se tutto dovesse essere confermato. Detto che comunque nell'immediato tra ammortamento e un ingaggio che dovrebbe essere sui 600 mila euro netti a stagione di questo si sta parlando in questo momento Palacios 2003 classi 2003 sui conti dell'Inter dovrebbe andare a pesare abbastanza poco relativamente poco circa 2,4 milioni di euro all'anno in totale che se effettivamente sarà lui il vice bastoni è una cifra molto accettabile per gli standard che sta tenendo in questo momento l'Inter. Costa meno di Bissec che a bilancio sta sopra i 3 milioni di euro come costo annuale però Bissec chiaramente ha già un po' più di esperienza ed è già dentro le rotazioni dell'Inter mentre Palacios c'è da capire quando verrà integrato e con quali risultati però se detto più volte vogliamo provare a ringiovanire la Rosa vogliamo valorizzare dei giovani andando a pescare anche con lo scouting ecco diamogli fiducia visto che è in arrivo e poi vediamo come va sperando che chiaramente che vada tutto bene su Palacios ho già fatto un altro contenuto dove racconto le sue caratteristiche ne parlo in maniera approfondita la trovate sul nostro canale però ecco se non provi ora a valorizzare qualche giovane da lanciare con una squadra che funziona molto bene non so quanti altri momenti migliori per farlo avrai nei prossimi anni. La domanda che a questo punto si ripropone che bisogna fare è sempre quella che stiamo facendo in queste ore ma l'Inter con Palacios che dovrebbe essere l'ultimo colpo di questo mercato è al completo? È davvero una squadra al completo? Ecco a livello numerico io dico assolutamente sì anzi allo stato attuale a livello numerico almeno un giocatore oltre a Buchanan che è infortunato finisce fuori dalla lista Champions e quindi ci siamo. Al livello qualitativo qui si può discutere e i temi secondo me sono sempre tre il difensore centrale dove molti vorrebbero fare un investimento per avere una certezza in più già da quest'anno l'esterno destro dove in tanti vorrebbero una soluzione più di qualità per questa stagione e poi l'attacco nello specifico nel ruolo della quarta punta. Velocemente dico la mia poi ne riparleremo chiaramente in un altro contenuto più dettagliato sul centrale secondo me serve un investimento che sia un investimento forte su un giocatore che deve diventare poi il titolare dei prossimi anni e quindi in questo momento visto che ci sono già acerbi e devrai e hai destinato le risorse ad altri ruoli andare ad accontentarti con un profilo che ti occupa poi uno slot in termini numerici e di bilancio per le prossime stagioni e prendere magari un profilo che quindi non ti convince appieno per me non vale la pena. Per me si può stringere i denti per una stagione che comunque secondo me con una squadra equilibrata che funziona puoi ancora affrontare con devrai e acerbi e all'occorrenza delle soluzioni di emergenza che secondo me in squadra ci sono poi tra un anno si vai a prendere il nuovo centrale del prossimo futuro visto che poi nel 2025 tra l'altro ci sono tanti difensori forti che vanno via a parametro zero in giro per l'Europa. Sull'esterno è il ruolo dove forse sì si può fare un upgrade in termini di qualità rispetto al titolare ma qui dal mio punto di vista bisogna dare fiducia anche a Simone Inzaghi soprattutto a Simone Inzaghi perché per la permanenza di Dumfries dietro la permanenza di Dumfries c'è anche la volontà di Inzaghi di tenere l'olandese perché evidentemente ha bisogno di un giocatore con le caratteristiche di Dumfries in rosa. Per avere anche delle varianti a utilizzare sia gare in corso che dall'inizio e di giocatori con le caratteristiche di Dumfries ma più forti e che costano meno di lui non ce ne sono tantissime ve ne ho parlato in un altro contenuto che trovate sul nostro canale. Per Darmian anch'io ho qualche dubbio sul suo impiego da quinto per tutta la stagione lì a destra detto che Darmian ha subito risposto contro il Lecce a tutti quelli che dicono che è finito va accantonato eccetera però evidentemente mi metto nella testa di Inzaghi ad Inzaghi un Darmian che è sempre affidabile e fa sempre il suo fa comodo averlo da quinto nel ruolo di equilibratore perché favorisce gli inserimenti di Pavar e di Bissec che si buttano molto in avanti e potrebbe essere un fattore tattico importante che secondo me in tanti stanno sottovalutando. Sulla quarta punta manca una caratteristica più di rottura anche a gara in corso e questo è vero la quarta punta ad oggi è Arnautovic un ragazzo in un commento mi ha scritto cioè quindi adesso anche Arnautovic va bene una cosa del genere mi ha scritto non è che va bene è che se resta l'Inter e rimane in quest'anno in squadra dobbiamo giocare con lui non è che possiamo fare altro inventarci altro non sono io purtroppo ecco o per fortuna dipende dai punti di vista anzi forse per fortuna non sono io quello che deve far fuori i giocatori e prenderne altri quindi Arnautovic c'è l'Arnautovic che è entrato contro il Lecce è stato un buon Arnautovic un buonissimo Arnautovic che nel ruolo di quarta punta ecco può essere effettivamente utile per l'Inter questo l'ho detto e lo ribadisco perché ti porta anche ad essere un giocatore è un giocatore comunque diverso dagli altri attaccanti che abbiamo non cambia così tanto in termini caratteristiche però è quello che più di tutti può fare la boa in avanti può tenere i palloni può far salire la squadra e fare la sport molto bene anche in area di rigore quindi tecnicamente è un giocatore che per me rimane valido il tema è sempre legato all'aspetto fisico ma se riesci a dosarlo ed è un'alternativa quindi ai titolari che non avrà un grandissimo minutaggio per me può essere ancora utile detto che per me Arnautovic qui so che attirerò le critiche di molti ma per me Arnautovic gioca tranquillamente titolare in almeno 14 squadre di Serie A se non anche qualcosina in più ancora oggi quindi averlo come quarta punta non è così male un attaccante che sarebbe titolare in quasi tutte le squadre di Serie A alla luce di questo è un inter non perfetta magari che poteva essere ancora più forte sicuramente sì ma comunque per me è più forte e più completa dell'anno scorso poi attorno stiamo vedendo squadre che stanno facendo tanti colpi e quindi hanno anche entusiasmo ma analizziamo un attimo rapidamente anche quello che c'è attorno la Roma con De Rossi che per me non è un grande allenatore e la Lazio che con tutto il rispetto ecco la vedo indietro non le considero i nostri rivali in questo momento così come la Fiorentina che già zoppica e il Bologna che per me quest'anno fa un passo indietro il Milan il Milan sinceramente inizio anno l'ho messo molto su nella mia griglia di partenza perché per me ha fatto un buon mercato sensato logico credo che abbia ancora delle lacune ma la squadra per me è forte forse nel reparto offensivo eh a molti più giocatori che possono essere ruotati e che trovano per me il Milan è una squadra che se si difende bene può più facilmente vincere uno a zero rispetto all'Inter forse perché ha hanno più fallicilità nell'andare al gol dal mio punto di vista però il punto è sempre quello che dicevo due settimane fa ovvero il cambiamento tattico da Pioli a Fonseca è un cambiamento molto grande perché Fonseca porta proprio uno stile molto diverso e e l'impressione che ho avuto dopo le le prime due partite che ho visto del Milan è che la squadra non stia ancora seguendo in pieno l'allenatore in questo momento quindi eh già tra i tifosi c'è un accenno di malumore da quello che leggo e poi ci sono giocatori chiave come Leao e Teo Hernandez che vi ho visti giocare soprattutto a Parma in un modo che mi fa pensare addirittura che oh io lo dico dentro lo spogliatore magari qualcosina c'è qualche qualche tensione qualche problemina c'è anche con l'allenatore però questa è la mia sensazione da fuori il Napoli forse mi sta sta riguadagnando qualche punto questo Napoli perché comunque la rosa è forte la rosa è forte secondo me Lukaku è in arrivo c'è da definire l'operazione però in Serie A fa sempre il suo e Conte senza le coppe per me è un vantaggio importante l'incognita anche qua per me è più sull'ambiente l'ambiente che sembra un po' non dico una polveriera ma mi sembra un ambiente dove basta poco per accendere un entusiasmo che può essere molto positivo ma basta anche molto poco per far esplodere un pochino tutto quindi affrontare una lunga stagione un po' sul filo del rasoio è un rischio e quindi oggi lo metto ancora comunque dietro l'Inter nonostante il Napoli stia facendo il mercato da record in termini di spesa dell'era dei Laurentiis la Juventus è il grande tema dobbiamo ancora vederla nella seconda partita di campionato la commenteremo nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club stanno facendo più un mercato di tutti Nico Gonzalez con Seisao stanno prendendo forse anche Sancho in qualche modo penso prenderanno Kupmeiners tanti colpi importanti non vanno sottovalutati ma hanno cambiato anche tantissimo c'è da capire adesso anche Danilo Chiesa tutte le varie situazioni possono partire ancora diversi giocatori qualcuno ha fatto dei paragoni con l'Inter nel senso che anche l'Inter l'anno scorso aveva cambiato 12 giocatori 13 giocatori se non ricordo male e per certi versi a livello numerico ci può stare come paragone detto che però l'Inter aveva cambiato molto meno nei titolari e soprattutto aveva mantenuto l'allenatore che già conosceva l'ambiente da due anni in questo caso Tiago Motta ha meno esperienza di Inzaghi può dare sicuramente un'altra identità migliore e valorizzare tanti giocatori rispetto ad Allegri e quindi può funzionare però ha anche meno esperienza nel gestire un gruppo vincente e soprattutto nel gestire le rotazioni con la Champions e le tante partite da affrontare c'è proprio una squadra e un'identità ancora da costruire quindi magari ti fa l'exploit e accorcia il processo di crescita in pochi mesi e fa subito una grande stagione ma sulla carta alle diciamo alle porte ecco alla partenza del campionato io ancora oggi li vedo indietro a livello di progetto a proposito di progetto poi c'è l'Atalanta di cui si parla tantissimo venerdì li affrontiamo subito in una sfida già molto pesante secondo me alla quale tra l'altro c'è da capire se ci sarà Lautaro Martinez perché forse non è solo un semplice affaticamento quello che gli ha fatto saltare il Lecce e magari sarebbe il caso di tenerlo a riposo per evitare che vada in nazionale lo metto lì io come suggerimento l'Atalanta è più avanti nella preparazione ha battuto 4-0 il Lecce allora subito tutti a dire ecco l'Atalanta batte 4-0 il Lecce noi invece facciamo solo 2-0 discorsi che per me non hanno alcun senso nessuno anche perché poi si è visto subito l'Atalanta perde contro il Torino perde meritatamente contro un ottimo Torino che è un allenatore molto bravo da tenere d'occhio anche per noi per un prossimo futuro magari e il Torino che può essere davvero una sorpresa di quest'anno forse non ai livelli del Bologno dell'anno scorso ma ha tanto potenziale nonostante un mercato ristretto. L'Atalanta anche qui ha cambiato tanto ha perso giocatori importanti Ascamacca infortunato Kupmeiner si andrà probabilmente alla Juventus si esalta molto la situazione l'Atalanta ma Gasperini per esempio è insoddisfatto del mercato anche domenica ha sottolineato che mancano tanti giocatori rispetto a giugno quindi si aspetta altri colpi alcuni stanno arrivando e anche qui le solite frasi fatte l'Atalanta fa meglio di tutti quanti nello scouting prende sempre giocatori da valorizzare casca sempre in piedi sta prendendo quadrato in questo momento che all'Inter credo il 99% dei tifosi nemmeno vuole sentir nominare e sta prendendo Rui Patricio che a febbraio compie 37 anni quindi mi sembra abbastanza il segno evidente che se vuoi far bene se vuoi ottenere anche risultati sportivi oltre che quelli economici è vero che bisogna puntare sui giocatori da valorizzare ma avere anche giocatori di esperienza può essere veramente utile quindi l'Atalanta c'è la sensazione lo chiedo anche a voi che in questa stagione così particolare voglia provare magari a fare un per tentare anche lo scudetto è un punto di domanda che metto lì già venerdì secondo me ne capiremo un pochino di più detto che poi stavo pensando un po scherzando così che con Gasperini Bellanova Samarzic Zaniolo poi quadrato che è un ex eccetera si sta creando forse la squadra con più rancore nei confronti dell'Inter che possa esistere quindi magari con noi tireranno fuori anche qualcosina in più in questa gara ma a parte gli scherzi Atalanta da tenere d'occhio per me ad oggi comunque l'Inter rimane davanti anche all'Atalanta e a tutti quanti anche se poteva fare qualcosa di più sul mercato molto dipenderà dalla crescita dei cotitolari come si è detto più volte dall'abilità soprattutto di Inzaghi di tenere tutti sul pezzo motivati e con ancora la fame di vincere sono queste secondo me le principali variabili e non vedo perché ci si debba nascondere nel dire che siamo forti secondo me sono gli altri che sbagliano a nascondersi pur avendo speso tanto e più di noi non noi che invece non ci nascondiamo fatemi sapere che ne pensate aspetto i vostri commenti così li leggiamo nella diretta delle 19.30 vi aspetto nel club di Passione Inter alle 22 come ogni lunedì un bel punto della situazione con una chiacchierata che ci facciamo con tutti i nostri abbonati quindi vi aspetto www.passioninter.club vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui un altro approfondimento che trovate in questo video